Secondo me no, Debian, secondo me it's not really, it's casual, casual si c'è casual, io voglio lui, Robin, algoritmo, va bene, quindi uno qualsiasi, andiamo a svincolare allora un CLS, vai, vediamo, proviamo, proviamo a dove trova Giro e Van Mores, trovo Giro e Verratti, Carlito, no ti banno, pure su Whatsapp ti blocco, prova, vai, facciamo così, vogliamo Robin, però uno qualsiasi, cioè c'è il CLS più pipa che c'ho, chi è, se c'ho CLS è più caldo perché, lui, ok, svincola Dead, si, svincola Dead, si dai, così, così lo becco sicuro, ok, CLS, vediamo, Debian, guarda, se funziona ti, ti mando un bacio, I love you Ciao lo zio, prova se funziona lo banno, no, no, Italia, è Robin, è Robin, no, è Lukaku, vabbè dai, Ah, basta che lo tolgo dalla squadra, ok, sì, infatti ci ho creduto, poi nero-azzurro, ok, no problem, ok, ok, dai, povero palla bianca, l'ho scartato così, magari era pure forte, ok, ok, quindi rimuoviamo Nedved, Pavello, aspetta, facciamo stronzate, allora, come si rimuove? Fammi, rimuovi, ok, rimuovi il giocatore, ricorda, ok, posto, ok, nessuno vuole essere Robin, da Necroni, Nessambuca, ubriachi di Paiuca, vai, Robin Gosens, è lui, Oh, attenzione, c'è un altro Lukaku, sbrocco, Penso che era il più pipà del pool, praticamente, però fa anche il CLS, quello è il brutto, forse perché fa anche il CLS, quindi il ragionamento non è nemmeno sbagliato, però no, uffa, eh, lo so, lo so, purtroppo, lo so, lo so, però vedi, funziona, allora, aspetta, eh, ugoresca, allora aspetta, scusami, Gula, esatto, proprio lui, Allora facciamo così, Naftalina, ottimo Gula, ma a posto di Ned, si affarone, ma chi è questo streamer, chi è, chi è, vediamo che ha 26 spettatori, allora vi piace, eh, allora, raga, noi ci serve Robin Gosens, Ho trovato Lukaku, in Italia, ho trovato Goulam, grande Goulam, se non è Gosens e Goresca va bene pure, però se mi date Robin Gosens sarebbe male, sì, Goulam, a posto di Ned, un attimo, mi dissocio, Robin Hood, oh, oh, Italia, un altro Goulam, guarda, eh, Goulam, eh, 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 eh abbracciamo però funziona comunque devo dire che funziona allora facciamo così pavelino lo rimettiamo dove sta va bello o ma ieri vi siete divertiti lì l'amichevole contro i spagnoli che bello per vendere braccialetti ottimo eccolo va va insieme a lui avendo il socio allora e allora chi ci stava di là vediamo che ci intera parte è meglio non dirlo perché porta male dopo sto video va a finire su youtube con gli host di naftalina presenti ce lo taggo pure allora un bap è buono alison boy qua troppi ne voglio io c'è parte giro e i terzini lo peschi peschi bene già il genio squadra è su youtube è nativo e mi bad dai va senza sì e senza ma vabbè oh oh e carlitos a casa le carlitos a casa de bian golden boy proprio lui che è il giocatore il golden boy e poi sta pure a sta settimana mo lo potenziamo subito questo allora mbappé a posto un bell'alison io vorrei alison sulle la madre c'è sta bello sta no va bene pure matico dai alison e sulle a prevedo un bappé spettacolazzo si infatti molto molto a domani becco altri due di mbappé vada che player you want from this player e sulle e alison c'è ragione bravo bravo ti do retta va bene vediamo se funziona eh vediamo se funziona se funziona ti do un bacio se pesqualison sei il mio mito basta se si parla jubbs che parla di sculate allora se adesso pesqualison ti regalo la sub ok ok i gift you the sub jubbs o mai quanto arcarius mmmm eccolo la carlitos carlitos colpisce ancora carlitos colpisce ancora ma ci manca che prossime giro e carlitos con questo verrete più forte di quell'altro vero che ti importa si questo è più forte mi pare che arriva a un botto si sto a fare il psg questi sono più forti sti giocatori mi pare che sono più potenziati dai alison alison e si abbracciamo inghilterra inghilterra annaggia carlitos oh no un altro mbappé e vabbè dai due mbappé uno lo mette a me in porta mbappé in porta vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai